Pazzo è un progetto che si occupa di pensiero critico, è un progetto che portiamo ormai da qualche anno nelle scuole, di ogni ordine creato d'Italia abbiamo raggiunto circa 1500 scuole e che serve agli studenti per migliorare il loro approccio nei confronti della realtà. Insegna infatti a riflettere, ad orientarsi intorno ai problemi, a cercare di togliere la realtà, tutto grazie ad una grande opportunità offerta dalla filosofia. Per filosofia noi intendiamo una cassetta degli attrezzi, cioè una raccolta di strumenti, di calciaviti, capi inglesi, martelli eccetera, che servono per interagire con la realtà, capirla, smontarla, forse in alcuni casi correggere i problemi, affrontarla. E a volte succede che quando noi abbiamo un solo strumento, il martello, tendiamo a trattare le cose come se fossero dei chiodi e dunque è importante arricchire questa cassetta di attrezzi, di strumenti, metodologie, innovazioni, strategie che possono permettere agli studenti di affrontare in modo critico i problemi e la realtà. Che cosa vuol dire affrontarle in modo critico? Vuol dire liberarsi di trappole, che sono spesso trappole cognitive, quello che in gergo tecnico si chiamano bias, cioè errori della mente. A volte noi per esempio deduciamo delle conclusioni, però da premesse che sono completamente sbagliate. Questo ci porta a commettere errori di valutazione, di ragionamento e quindi anche a sbagliare delle decisioni importanti. Oppure errori dovute a semplici credenze, quelle che si chiamano fake news. A volte ci affidiamo erroneamente a tutta una serie di informazioni che sono ritenute vere, quando in realtà lo sono soltanto in parte, sono verosimili. Dunque il progetto Pazza che portiamo a Didatta è un progetto che aiuta le scuole, gli studenti a mettere in difficoltà appunto i ragionamenti quotidiani, inciampando nelle parole, cioè partendo dalle parole quotidiane, parole ordinarie che noi incontriamo tutti i giorni, e cercando di dargli valore, cioè di darne il più possibile dei significati. Attraverso i significati di questi termini cerchiamo di portare gli studenti a riflettere appunto su dei percorsi che sono per pensi molto spesso individuati. In particolare a Didatta noi offriamo due di questi strumenti. Uno che si chiama discussione etica, dilemma etico, che vuole essere una sorta di evoluzione del debate. Il debate è una metodologia ampiamente nota, interessante, conosciuta nelle scuole, molto valida, che però secondo noi, secondo noi poi nel nostro gruppo di ricerca, ha un piccolo difetto, cioè una metodologia che si pone in un'ottica di competizione all'interno della scuola. Mettiamo delle squadre che devono vincere, c'erano dei risultati da raggiungere, eccetera. La discussione etica invece mette al centro un dilemma, che di per sé appunto è un dilemma filosofico, quindi non ha necessariamente una risposta univoca, anzi ogni scelta porta con sé anche qualcosa di doloroso, e vi sono tanti esempi, ad esempio del lomo grasso, del male di amore, eccetera. Però ecco, si muove in un'ottica più inclusiva, più collaborativa, più cooperativa. L'altra iniziativa che abbiamo portato a didacta è un'iniziativa che vede un altro strumento, è quella dell'intelligenza artificiale, che viene unito, applicato alla filosofia. Cioè noi abbiamo elaborato, grazie a Francesco Mugnai e a Matteo Borri, un'intelligenza che abbiamo chiamato Platone, perché effettivamente è Platone, e che interroghiamo, quindi è col corpus di documenti, di scritti, delle opere appunto platoniche. Questo significa che noi lavoriamo con il filosofo in un ambiente protetto, controllato, dove non c'è spazio appunto per fake news o per errori dovuti ad una interpretazione errata dei suoi testi. Ma che in realtà usiamo con le scuole in modo appunto dialettico. Cioè mettiamo Platone insieme agli studenti, come una sorta di amico critico, e facciamo lavorare gli studenti interrogando Platone. Questa ha una finalità importante. Crediamo che per sviluppare il pensiero critico l'aspetto più interessante, e anche forse più sfidante, è quello di aiutare gli studenti a porre la domanda, a fare domande. A volte noi pensiamo che la risposta sia l'elemento più, come dire, conclusivo. Faccio domande ho delle risposte assolute, delle certezze, non è sempre così. Diceva un filosofo, la risposta è l'ultimo passo del domandare, Heidegger appunto. Forse aiutando gli studenti a fare domande, significa ad aprire delle strade, dei percorsi, a esplorare sentieri che sono molto spesso difficili, per i quali c'è bisogno che qualcuno ci accompagni, appunto, Platone. Aiutiamo i ragazzi, i nostri studenti, a interagire con la realtà appunto in un'ottica critica, in un'ottica anche personale, e forse abbiamo scoperto anche in un'ottica divertente.